La giunta regionale ha svolto in aula un'informativa in merito al prossimo piano sanitario e sociale integrato. Le richieste di referendum abrogativo sull'autonomia differenziata torneranno in aula il 16 luglio. Accolte le dimissioni di Nicola Ciolini e Francesco Torselli, al loro posto subentrano Marco Martini e Sandra Bianchini. Come sarà il nuovo piano sanitario? L'assistenza territoriale sarà uno dei pilastri del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale 2024-2026, sul quale la giunta ha presentato un'informativa al Consiglio. Primo obiettivo, bisogna provare a costruire un nuovo equilibrio tra bisogni di salute, quantità e qualità dei servizi e sostenibilità. Questo è un obiettivo fondamentale perché i bisogni della popolazione crescono e le risorse purtroppo sono scarse. Però c'è un compito anche nostro che è quello di costruire un nuovo equilibrio che garantisca qualità e sostenibilità. Secondo aspetto, le politiche per tutelare e promuovere della salute non sono solo politiche sanitarie. Il diritto alla salute diventa un elemento trasversale a tutti i settori di programmazione. Terzo elemento, dobbiamo arrivare a realizzare entro giugno 2026 il nuovo modello di assistenza territoriale. Sapete che ci sono cantieri aperti per case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative e territoriali che stanno entrando in funzione proprio in queste settimane. C'è un grande investimento nelle tecnologie digitali. Tutto questo ora ha bisogno di un modello organizzativo che le faccia funzionare in modo coordinato, integrato e continuativo. La costruzione del nuovo modello di assistenza territoriale è la priorità. Io ritengo che il piano socio-sanitario che abbiamo presentato oggi in aula sia qualcosa di profondamente innovativo e che dà conto di un sistema sanitario della Toscana che, indubbiamente, con le sue criticità, con la necessità di implementare i servizi, di ridurre le liste d'attesa, con politiche specifiche forti, di riuscire a superare la crisi dei pronti soccorsi su cui tutto si addensa, ma è profondamente innovativo e guarda a una sanità sempre più vocata al territorio. Dopo l'informativa degli assessori Bezzini e Spinelli, il nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale è stato protagonista di un ampio dibattito. Noi siamo molto contenti della teoria perché per la prima volta c'è un approccio olistico complessivo sul concetto di salute. La salute non è più vista solo in senso sanitario e curativo, ma anche in senso di contrasto alla povertà, quindi un aspetto sociale, ma anche e soprattutto ambientale. Questo è quello che abbiamo chiesto con forza alla Giunta, ossia che ci sia un cambio decisivo di rotta riguardo soprattutto alla tutela ambientale. Non si può pensare di fare un piano sanitario con un nuovo approccio se non si affrontano questi problemi di inquinamento che a nostro avviso non sono più rimandabili. E un altro aspetto importante è l'aspetto della comunicazione. Una bellissima procedura di stile, nient'altro, perché non viene detto assolutamente niente, anzi praticamente si prende tempo per farci capire che il piano sanitario vero e proprio forse non riusciremo nemmeno ad approvarlo in questa legislatura. Di tutte le 60-70 pagine quello che sono, ci sono tanti esercizi di stile senza nessuna praticità di come risolvere quelle che sono dei problemi esiziali a carico del tessuto nevralgico della società, cioè quindi i cittadini. Non si dice come verranno risolte le liste d'attesa, non si dice come verrà riempita le case di comunità. L'unica cosa interessante è una valutazione dell'Ocse su quattro ipotesi per poter dare soldi o comunque razionalizzare soldi in sanità. Il Partito Democratico e la sinistra non hanno la capacità di governare la sanità toscana. Già il fatto che gli obiettivi strategici di legislatura arrivino alla fine di questa legislatura è significativo sulla mancanza di una programmazione, di un programma di governo in ambito sanitario. Noi ricordiamoci che abbiamo imposto ai toscani l'aumento dell'IRPEF, che ha portato 200 milioni di euro in più nelle casse della regione toscana senza avere una programmazione. Noi non sappiamo, loro non sanno, qual è il fabbisogno ottimale della sanità toscana, ovvero di quanti medici, di quanti infermieri, di quanti operatori sanitari avrebbe bisogno la regione toscana nei singoli ospedali per poter lavorare al meglio. Nessuno ha in mente il fabbisogno ottimale della sanità. Noi dobbiamo rafforzare il territorio potenziando le case di comunità, decidendo che cosa fare dentro le case di comunità, ma facendo anche un grande patto sociale con le farmacie attraverso lo strumento della farmacia di servizio. Noi dobbiamo potenziare, è la sfida dei prossimi anni, il servizio domiciliare. Noi dobbiamo rafforzare il pronto soccorso che sono l'anello debole. Da parte nostra due elementi cardine sui quali abbiamo voluto agire. Da una parte la massima attenzione alla prevenzione, solamente con la prevenzione si possono anticipare della conoscenza di alcune malattie che in molti casi possono diventare mortali o invalidanti e nello stesso tempo una prevenzione diffusa nei territori e soprattutto con un sistema nuovo di organizzazione che vogliamo declinare, lo declineremo quando approveremo il piano sanitario. Dall'altro campo una massima attenzione, riteniamo che sia arrivato il momento, sulla salute mentale, una questione troppe volte sottovalutata. Il nuovo piano socio-sanitario dovrà affrontare le sfide fondamentali della riorganizzazione del sistema socio-sanitario regionale. Intanto un approccio al tema delle politiche della salute a 360 gradi. La Toscana su questo è avanti perché ha creato negli anni le società della salute e che sono state create proprio per questo, cioè per non occuparsi solo della sanità ma per occuparsi di tutti i determinanti. La creazione delle case di comunità e quindi di un territorio che sia punto di riferimento per i problemi, ovviamente tutti questi miglioramenti serviranno per ridurre l'aumento dei costi del sistema sanitario ma senza un aumento del fondo sanitario è difficile. Autonomia differenziata Le due proposte di deliberazione presentate da Partito Democratico Italia Viva e Movimento 5 Stelle per l'indizione del referendum abrogativo sull'autonomia differenziata torneranno all'esame del Consiglio regionale martedì prossimo 16 luglio in una seduta che sarà appositamente convocata sul tema. La decisione è stata presa dall'Aula nel corso della seduta dello scorso 9 luglio in seguito a un accordo tra i gruppi di maggioranza e di opposizione. Credo che sia evidente una contrapposizione oggettiva fra quello che ho avuto modo di definire in Aula e il nuovo fronte popolare che ci vede impegnati come Italia Viva insieme a Partito Democratico e a 5 Stelle su una battaglia importante. Non è che si tratta della maggioranza che in questo momento governa la regione si tratta di tre forze politiche che stanno trovando un punto di convergenza su una questione importante quella di chiedere il referendum abrogativo di una legge che noi abbiamo definito ingiusta soprattutto che danneggerebbe le regioni come in nostro caso la Toscana difendiamo gli interessi dei toscani e come tale la battaglia di natura politica è evidente la contrapposizione, il centrodestra presente nel Consiglio regionale sta difendendo le stanze e le prorogative del Governo nazionale naturale ed evidente si è contrapposto a un fronte popolare così come definito che è molto compatto, molto coeso per quanto ci riguarda non è una questione di tempi noi non indietreggeremo di un centimetro rispetto al nostro punto di vista L'opposizione oggi ha messo nell'angolo la maggioranza e l'ha costretta a rinviare di una settimana il punto all'ordine del giorno e credo che questo sia un fatto che per noi vuole rimettere al centro i cittadini toscani e l'importanza che l'autonomia differenziata ha per i cittadini toscani in particolare per tanti argomenti, per tanti temi che la regione può richiedere al Governo di trattare in forma autonoma come l'energia, l'ambiente, al lavoro, alla formazione e alla valorizzazione anche della cultura Sono opportunità che per quanto ci riguarda devono essere nelle mani dei cittadini toscani e questo sappiamo bene che non andrà a creare differenze importanti rispetto ad altre regioni perché ci sono i livelli delle prestazioni essenziali che garantiscono in questa legge il fatto che tutti i cittadini poi italiani abbiano un minimo delle prestazioni Sono cinque regioni che approvano questo referendum attraverso la seduta del Consiglio regionale Noi in Toscana siamo stati i primi a aprire l'iter per approvare il referendum e lo stiamo approvando qui in Consiglio regionale Poi un giorno prima, un giorno dopo, l'opposizione che fa quello che è l'ostruzionismo e quindi magari il Consiglio la prova prima o la prova dopo La sostanza è che cinque regioni, la Toscana, la Campania, la Puglia, l'Emilia-Romagna e la Sardegna hanno coordinato su un unico testo la richiesta, come recita la Costituzione per il referendum sul testo Calderoli sull'autonomia differenziata È giusto che per un'iniziativa che rischia di creare lo spacca Italia ovvero di toccare profondamente l'ordonamento repubblicano portando le regioni ad essere sostanzialmente autarchiche è giusto che si pronunci il popolo Consiglio subentrano Martini e Bianchini Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la presa d'atto delle dimissioni del consigliere Nicola Ciolini del PD che era subentrato in sostituzione della consigliere Laria Bugetti eletta sindaca di Prato e la surroga con Marco Martini secondo dei non eletti nella lista del PD nella circoscrizione provinciale di Prato Marco Martini, 71 anni, è stato sindaco di Poggia Caiano dal 2008 al 2018 è componente della direzione regionale dell'Assemblea nazionale del PD nonché della segreteria e direzione provinciale di Prato Doppiamente felice appunto sia per questa mia esperienza nuova, bella anche e anche per l'elezione di Laria Bugetti al sindaca di Prato quindi mi fa molto piacere, ricevo, prendo un testimone importante perché ha fatto un grande lavoro nella sua commissione alla presidenza della commissione 2 e anche per tutte le iniziative che ha portato avanti quindi sono davvero felice di poter rappresentare il distretto pratese, l'area pratese nel contesto del Consiglio regionale anche se ovviamente dobbiamo tutti lavorare per la nostra bellissima regione toscana però nel distretto abbiamo diverse realtà non voglio chiamarli problemi perché sono le gestioni, vorrei dire, ordinarie di quelle che è l'amministrazione di un territorio e quindi questioni molto importanti che riguardano l'economia del distretto che riguardano il lavoro, il lavoro giusto che è importante e su questo dovremo davvero impegnarci nel Consiglio regionale ci sono poi tutti i temi ambientali che riguardano anche la nostra provincia e a me sta a cuore perché ho fatto il sindaco per due mandati nel comune di Poggia Caiano all'interno della provincia di Prato quindi il grande parco della Piana al quale anche noi come Poggia Caiano abbiamo sempre aderito quindi tutta la questione che riguarda anche la mobilità i collegamenti Prato e Firenze che ovviamente hanno un impatto importante sul territorio e che deve vedere la realizzazione di interventi e di opere fortemente sostenibili sul piano ambientale e quindi credo che di lavoro ce n'è tanto da fare da parte mia ci sarà il massimo impegno anche se sono consapevole che il tempo a disposizione di questa legislatura non sarà molto Approvata l'unanimità dal Consiglio anche la presa d'atto delle dimissioni del consigliere Francesco Torselli di Fratelli d'Italia eletto al Parlamento Europeo e la surroga con Sandra Bianchini prima dei non eletti della lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione Firenze 1 Si chiude un cammino importante perché quattro anni in Consiglio regionale non sono una passeggiata, quattro anni in Consiglio regionale ti insegnano che la Toscana arriva prima di tutto io nel discorso di saluto all'aula ho citato una data quella del 2 novembre del 2023 che è stata forse la giornata più difficile in questa legislatura per la Toscana quando tre province ma non solo sono finite sott'acqua in quella notte credo che abbiamo dato tutti dimostrazione di cosa significa essere al servizio della Toscana nessuno di noi ha fatto un minuto di polemica politica nessuno di noi ha fatto un minuto di attacco politico in quel momento ma abbiamo deciso di spalare tutti nella stessa direzione nel vero senso della parola quello significa essere consiglieri regionali e amministratori di questa regione significa essere da sempre i più di parte di tutti noi siamo fiorentini poi abituati a dividerci su tutto e su tutti ma al tempo stesso essere consiglieri regionali significa che dopo che ti sei diviso e che ti sei detto in aula di ogni poi c'è un bene supremo che è la regione toscana ecco questo è l'augurio che faccio a chi verrà dopo di noi a chi verrà dopo di me in consiglio regionale a chi verrà dopo di noi nelle prossime legislature di avere sempre a cuore la regione toscana e pensare che questa viene sempre prima di tutto prima dell'appartenenza politica prima dell'appartenenza partitica Sandra Bianchini si è sempre occupata di selezione, gestione e sviluppo del personale da sempre esponente del conservatorismo liberale nel 2019 è aderito a Fratelli d'Italia e nel 2020 ha accettato la sfida di candidarsi alle elezioni regionali ottenendo 1.200 preferenze è dirigente del partito di Giorgia Meloni a Firenze il primo giorno appunto come dicevo prima di assunzione di responsabilità prima di tutto la vivo molto così quindi ho sicuramente dei temi su cui in questo anno e mezzo poi non sappiamo bene ma che voglio affrontare voglio incidere sicuramente il primo tema è quello del lavoro vedo che negli anni insomma non è stato mai fatto molto sul lavoro, sull'impresa l'impresa naturalmente correlata al lavoro su un certo target di lavoratori che sono i giovani, le donne e gli over 50 quindi lavoro, formazione e impresa è sicuramente il primo tema il secondo tema che è molto attuale purtroppo è sollicciano sollicciano perché è un problema l'inferno di sollicciano è un inferno che non è di qualche mese è un inferno che va indietro nel tempo dovuto sicuramente anche a una direzione e una gestione non efficace quindi poi mi occuperò di quello che è nell'ambito regionale adesso sicuramente la prima volta abbiamo un governo che si occupa di sollicciano mandando agenti, dando finanziamenti ci sono tante incongruenze dovute alla gestione prima di tutto perché sono abituata a pensare che prima di tutto si gestisce ottimizzando le risorse e vengo al terzo tema che è l'ottimizzazione delle risorse della regione a cui collego l'ultimo tema che è l'autonomia A presto...